La prima pagina, non so se ce l'abbiamo, del Fatto Quotidiano di oggi, sottolinea molto, diciamo, le voci contro dei governatori, no mi pare? Ai CPR. Sì, proprio ai CPR. Ecco, vediamo. Allora, i CPR in Italia sono pochi e mal funzionanti, ospitano circa 500 persone, sono arrivate 127.000 persone dall'inizio dell'anno, i rimpatri al momento sono stati 3.000. Con questo andazzo le persone che devono essere rimpatriate verranno rimpatriate in 30 anni. La verità è che questo governo, che non ha colpe sul flusso di immigrazioni in questo momento, ovviamente, però sta rispondendo in modo un po' dilettantesco. Perché dico questo? Perché mentre Giorgia Meloni si presenta a Lampedusa con Ursula von der Leyen, cercando di trovare una soluzione a livello europeo, che è l'unica strada da percorrere, anche se difficile, se non impossibile, Matteo Salvini lo stesso giorno incontra Marine Le Pen, che è quella che disconosce Ursula von der Leyen, che dice che delegare l'Europa è dannoso, inutile e pericoloso delegare l'Europa alla gestione delle immigrazioni. E allora di che cosa stiamo parlando? Ci sono due anime dentro il governo, ce n'è una di governo e una di lotta? Questo è il punto primo. Il punto secondo, quando ci troviamo di fronte a queste emergenze, bisogna rispondere con degli atti concreti, non con delle battute da bar. Perché il blocco navale, ma sappiamo che cos'è un blocco navale? È una pratica che si fa in guerra, che è inattuabile in un momento di pace. Il blocco navale, che è stato pertanto raccontato in campagna elettorale, non è una soluzione. Parla di hotspot in Africa la presidente Meloni. Non c'è bisogno dell'ONU. Sapete perché? Perché le aveva fatti già Marco Minniti. Marco Minniti, quando divenne ministro degli interni a gennaio del 17, fece crollare le immigrazioni da 200 mila circa, cioè i numeri erano simili a quelli di adesso, a 40 mila. Lo fece creando un qualcosa con i governi per stoppare le partenze. Che poi sia legittimo per un partito di sinistra, questo è un altro capitolo che andrebbe affrontato. Questo è un altro discorso, però certo per fare hotspot bisogna avere l'autorizzazione dei governi in cui territori si realizzano gli hotspot. Minniti riuscì a stoppare le partenze, quindi non serve l'ONU. Se lo vuol fare, lo faccia. Governare è un verbo che presuppone qualcuno che sia in grado di farlo. Io vedo che la risposta di questo governo è inefficace a fronte di un problema biblico, una migrazione biblica che non c'è la soluzione semplice a complessità di questo tipo. Però le risposte non sono all'altezza, perché ognuno corre per i fatti suoi. Addirittura il ministro Piantedosi ha rimproverato il ministro Salvini, rimproverato tra virgolette, dicendo che non si può parlare di una regia occulta per queste migrazioni, perché dice io sono il ministro degli interni, devo avere delle prove. L'altro è un leader politico. In realtà Salvini non è solo un leader politico, è un ministro ed è il vicepresidente del Consiglio. Quindi secondo Piantedosi, il vicepresidente del Consiglio può dire parole in libertà. Ecco, tutte queste cose messe insieme fanno sì che ci sono poche idee, ma confuse, come diceva Flajano. Attenzione, perché non vorremmo che il governo di Meloni si trovasse come in passato il governo Berlusconi, lo spread che aumenta. Luca, che pensi di tutte queste? È dietrologia? Non è dietrologia, è tutto relativo e legato alle promesse fatte in campagna elettorale. Se tu vinci le elezioni dicendo che avresti fermato gli sbarchi e poi c'è il record di sbarchi, allora qualcosa non va. Se fai un video molto simpatico dove vai alla pompa di benzina e fai vedere quanto sono le accise rispetto a quando prende il benzinaio e ti rivolgi alla telecamera dicendo che è uno scandalo che queste accise, alcune hanno più di un secolo, eccetera, eccetera. e poi la benzina è al massimo storico allora l'elettore comincia a riflettere sulle tue parole. Se poi ragioni dicendo che vuole fare la flat tax promettendo Mari e Monti un po' dalla Lega, molto dalla Lega, un po' da Fratelli d'Italia, Forza Italia è forse stata la più morigerata nelle promesse però se prometti tanto e dici siamo pronti poi quando arrivi ti confronti con la... Però scusami, questo riguarda la campagna elettorale che è una cosa andare a governare un'altra riguarda molti leader se rivisitiamo la storia di questi ultimi, diciamo, vent'anni cioè che poi quando arrivi a Palazzo Chigi tocchi con mano alcune cose e sai che le promesse, soprattutto le promesse diciamo più eclatanti, non le puoi realizzare. Certo, però se esagerato sarà esagerata la risposta. Voglio dire, la prima finanziaria è stata ereditata da Mario Draghi è stata fatta un copy and call praticamente. Questa è la prima vera legge finanziaria di questo governo e cosa accade? Accade che a fronte di necessità in virtù delle promesse e bisogno di 40 miliardi te ne trovi 7-8 e allora cosa devi fare? Semplicemente devi tagliare le promesse solo che fanno fatica perché hanno promesso tanto e verrà rinfacciata questa promessa non mantenuta perché se così non fosse uno fa una finanziaria lacrima e sangue come è stata definita tante altre finanziarie in un momento contingente e difficile si dice italiani stringete la cinghia il problema è che lo stringono solo alcuni la cinghia lo stringono solo quelli che hanno poco Ma la domanda successiva che ti faccio è siccome in questi 10 mesi di governo più o meno, vado a memoria 11 mesi la postura, mettiamola così di Giorgia Meloni e del governo sui conti pubblici, su molte vicende è stata di grande prudenza e anche di responsabilità soprattutto sulla parte economico-finanziaria tu pensi che tutto questo possa o abbia già cominciato ad alimentare una disaffezione di una parte dell'elettorato di centrodestra perché vedendo i sondaggi non mi pare che ci sia stato un crollo nella fiducia e di Giorgia Meloni e del governo di centrodestra È vero che oggi i leader durano poco perché nella società liquida tutto sfuma molto velocemente però dopo 11 mesi sarebbe presto Diciamo che dopo quest'autunno e la prossima primavera ossia le soglie delle europee si cominceranno a vedere i primi segnali e sì perché se io fossi stato un elettore di Giorgia Meloni non lo sono stato ma se fossi stato un elettore di Giorgia Meloni avrei voluto il blocco navale che per me è un'aberrazione assoluta ma se fossi un elettore l'avrei voluto se fossi stato un elettore di Giorgia Meloni avrei voluto che proseguisse sul taglio delle accise che aveva improntato Mario Draghi invece ha preferito fare altro le due promesse che ha mantenuto le uniche due sono quelle sulle manovre che avevano scelto i Cinque Stelle il reddito di cittadinanza lasciando 170-180 mila famiglie a zero e il super bonus che era una scelta strategica di dare un po' di energia al PIL dopo il crollo dello stesso dovuto alla pandemia ebbene ha tolto quelle due lì le due promesse elettorali per smarcarsi da diciamo l'impronta fondante dei governi precedenti l'ha fatta e poi sul resto però no perché qui le persone che non ricevono più il reddito di cittadinanza non è che stanno ricevendo qualcosa sì stanno ricevendo 350 euro se frequentano un corso che dovrebbe dare lavoro gli occupabili sì però la piattaforma che ha messo in piedi questo governo sul lavoro la dice lunga ci sono 15 mila richieste in Sicilia e ci sono o di più 28 mila richieste in Sicilia ci sono 150 posti non era vero che il lavoro c'era ma non era messo in correlazione con la domanda il lavoro non c'è per quello intervengono gli ammortizzatori sociali in un determinato momento storico per far sì che lo Stato dica ai cittadini in questo momento porti a casa zero sì diciamo però Luca Sommi ma esistono ancora destra e sinistra perché poi avevamo liquidato le ideologie e invece forse proprio sulle questioni che abbiamo affrontato anche oggi i migranti la politica economica invece forse ancora esistono destra e sinistra o no? esistono ancora e nel libro curato da Mimmo De Masi il suo testamento diciamo eccolo qua era frutto di incontri con grandi pensatori del nostro tempo proprio sui temi cari alla destra e cari alla sinistra Dio, patria, famiglia uguaglianza libertà, fratellanza felicità mettere insieme grandi intellettuali di destra e grandi intellettuali di sinistra per capire che significato ha oggi essere di sinistra e che significato ha oggi essere di destra quindi è un libro utilissimo per i ragazzi per i parlamentari per i cittadini comuni che devono capire da quale parte del fiume stare perché ancora esiste un fiume per i cittadini comuni per i cittadini comuni per i cittadini comuni